Per chiudere, premere il tasto lucchetto chiuso e digitare un codice a quattro cifre, poi premere il tasto ENTER. Il LED lampeggerà brevemente ogni due secondi per indicare che la serrattura è chiusa. Per riaprire, premere il tasto lucchetto aperto, ridigitare lo stesso codice utilizzato per la chiusura e premere il tasto ENTER.